Modelli organizzativi e efficienti per garantire una migliore sicurezza reale e percepita. È questo il tema dell'VIII Congresso Provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia di Como. Tra gli argomenti affrontati, quello della crisi della sicurezza tradizionale, dell'ambigua estensione di competenze del sistema a sicurezza, del preoccupante sentimento di avversione alle forze politiche ed anche una fotografia della situazione a Como e provincia. La situazione di Como rispecchia tutte le altre province della Lombardia, quindi una microcriminalità diffusa, i soliti reati che fanno più male, nel senso i furtini agli appartamenti, nelle ville, alle attività commerciali. Quindi queste sono le cose che colpiscono molto la popolazione e soprattutto chi li riceve. Noi stiamo dando un contributo all'amministrazione, lo facciamo sempre, quindi vogliamo lavorare in sinergia per creare dei nuovi modelli, proprio per contrastare questi fenomeni, queste realtà. Chiediamo sicuramente con forza il blocco totale del turnover, quindi noi abbiamo bisogno di forze fresche, abbiamo bisogno di agenti, abbiamo bisogno di mezzi, abbiamo bisogno di toglierci quelle zavorre che non competono alle forze dell'ordine, quindi riappropriarci del nostro mestiere, che è quello di controllare le strade e di fare le investigazioni. L'accordo nazionale quadro è stata la strategia rispetto alla grave carenza di organico che noi avevamo per far continuare a funzionare la polizia in tutte le sue articolazioni, altrimenti avremmo dovuto chiudere articolazioni importantissime come la polizia stradale, la polizia ferroviaria, la polizia postale, i reparti mobili, però quello era solo un palliativo momentaneo perché l'obiettivo è ripristinare gli organici. Grazie a tutti.